Mister, complimenti, grandissima prestazione in un momento cruciale, la crescita dell'Inter, soprattutto mentale. Sì, complimenti alla squadra, perché oggi in una partita sicuramente difficile contro un'ottima squadra come la Lazio, una squadra che comunque anche stasera ha dimostrato di avere grande qualità, di avere un'identità, un'organizzazione. Noi abbiamo dimostrato di essere una squadra, una squadra che inizia ad essere squadra con l'S maiuscola, iniziamo a capire i vari momenti della partita, gestire nella giusta maniera, con maturità, iniziamo ad essere sul pezzo. Questo secondo me è molto importante, complimenti ai ragazzi, perché meritano questo tipo di soddisfazioni. Detto questo, per noi deve essere un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo. Mancano 16 partite, quindi dobbiamo continuare, continuiamo a lavorare. Come stiamo facendo? Mister, sul terzo gol abbiamo visto perdere la plomb. No, diciamo che ho festeggiato insieme ai ragazzi, ma è un po' l'emblema dell'unità, di intenti, della compattezza di questo gruppo, di chi gioca, di chi è in panchina e di chi gioca meno, dello staff da parte mia. Viviamo la situazione veramente con grande partecipazione, perché sappiamo che tipo di lavoro stiamo facendo, sappiamo cosa stiamo dando per cercare di rendere orgogliosi i tifosi. E' quindi inevitabile che ci sia passione, ci sia voglia, entusiasmo. Bisogna continuare sotto questo punto di vista. Domande da studio? Sì, mister, intanto complimenti per la vittoria. In un momento così importante è arrivata una grande risposta da parte di tutto il gruppo. Le chiedo intanto quanto le fa piacere questo e poi adesso una settimana per preparare il derby contro il Milan. Che derby sarà secondo lei? Perché il primo è stato un po' di conoscenza all'inizio della stagione, poi quello da dentro fuori in Coppa Italia, questo che derby sarà? Sicuramente adesso abbiamo una settimana dopo tantissimo tempo in cui abbiamo giocato praticamente sempre, ogni tre giorni. Nell'ultimo periodo non dimentichiamo che comunque abbiamo affrontato squadre importanti, anche il derby stesso in Coppa Italia. Abbiamo giocato due volte contro la Juventus, abbiamo giocato a Firenze, stasera abbiamo giocato contro Lazio, adesso ci aspetta il derby, il derby di campionato. Sicuramente penso che per Milano debba esserci grande soddisfazione perché dopo tantissimi anni non solo c'è il discorso del campanilismo, però al tempo stesso si gioca un derby d'alta quota tra due squadre che sono prima e seconda, l'Inter è prima, il Milano è seconda. Detto questo del derby, io penso che i derby meno si parla meglio è, bisogna vincerti sul campo, punto e basta. Grazie. Grazie a voi. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvides di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticate di iscriverti al nostro canale YouTube. Channel